Cycle Time, Lead Time e MTTR. Tre metriche DevOps che devi assolutamente sapere. Ciao, io sono Michele e oggi vediamo quali sono tre delle mie metriche DevOps preferite. Tu ne hai qualcuna? Fammelo sapere nei commenti. Prima di analizzare queste tre metriche ti ricordo di mettere un mi piace e iscriverti al canale, così sarai notificato quando usciranno nuovi video. Cominciamo subito. La prima metrica che vediamo è quella del tempo ciclo. Ok? Il tempo ciclo o Cycle Time significa è quel tempo che intercorre tra quando noi iniziamo a lavorare su un qualcosa e quanto tempo ci mettiamo ad arrivare in produzione. Quindi immaginiamo che noi cominciamo a lavorare, a fare il coding su qualcosa, una feature, un bug o quello che è, e ci chiediamo quanto tempo ci metto da quando inizio a lavorarci sopra a quando arrivo in produzione. sostanzialmente è questa cosa qui. O meglio, al contrario, perché sarebbe da quando il tempo in cui arrivo in produzione al tempo di quando inizio l'attività ti inizio, no? Da quando a lavorarci sopra. Quindi possiamo dire che il tempo ciclo ci è dato da il tempo quando arrivo in produzione almeno l'istante in cui io ho iniziato. Ok? Questo sostanzialmente ci serve per misurare quanto veloci siamo nella nostra fase di lavorazione, com'è il nostro processo da questo punto in poi. Cioè da quando comincio a scrivere il codice, quanto veloce sono a scrivere, testarlo e mandare tutto in produzione. E questa è solo una parte del nostro processo. Un'altra tematica, metrica, molto più interessante, a mio avviso, anche il tempo ciclo è interessante, ma la seconda metrica di cui parliamo è il cosiddetto lead time, con cui non trovo una traduzione appropriata in italiano. E lo scriviamo qui. Lead... Il lead time mi rappresenta questa freccia, cioè quanto tempo è passato dal momento in cui io sono venuto a sapere qualcosa e il momento in cui sono arrivato in produzione. Intendo proprio il momento in cui, per esempio, il cliente mi ha fatto una determinata richiesta o io ho scoperto un bug e questo è stato registrato nel nostro sistema, può essere Jira, Azure DevOps o quello che vogliamo. Comunque sostanzialmente è da quando noi siamo venuti a sapere e abbiamo registrato questa cosa nei nostri sistemi. Quanto tempo ci metto da qui ad arrivare in produzione? E questo è il lead time. Quindi io scriverei che il tempo lead uguale il momento in cui sono arrivato in produzione, quindi data ora, minuto, secondo in cui sono arrivato in produzione, meno il tempo, l'istante, ok, in cui io ho saputo che c'era qualcosa di nuovo e l'ho registrato. Ecco, il lead time è interessantissimo, perché oltre che misurare, diciamo, la parte più tecnica del nostro processo, quindi quella da cui comincio a scrivere il coding e così via, mi misura anche la parte, quella che arriva prima del coding, cioè tutte le inefficienze che possono esserci dal meeting di analisi, dal meeting con cui decido, con che priorità svolgere l'attività, insomma, parte proprio dalle origini. Ed è ora della fine l'unica cosa che interessa il cliente, cioè dal momento in cui io ti ordino qualcosa e tu mi confermi che hai ricevuto l'ordine, ok, quanto tempo ci mette ad arrivare in produzione? Se usi delle piattaforme tipo Azure DevOps, questo calcolo lo fanno in automatico. Qui c'è tutta la spiegazione di vari stati. Una figata è che si possono anche fare veramente in quattro click dei grafici di questo tipo. Magari può essere argomento per altri video. Immaginiamo di fare un ordine ad Amazon. Noi, quando clicchiamo invia sul carrello, al momento in cui il corriere arriva sotto casa, quello è il lead time. Poco mi importa se Amazon nei suoi magazzini ci ha messo 3 secondi, 5 minuti o 1 ora. Per me il lead time è circa un giorno, perché da quando ho due giorni a seconda, però col prime di solito è un giorno. Quindi il lead time in questo caso è un giorno da quando io clicco al giorno dopo che mi arriva il corriere a casa. L'ultima metrica che vediamo oggi è il mean time to restore o anche mttr. Lo scriviamo così. mttr sta per mean time to restore. Ecco, lo scriviamo così. C'è il tempo medio di ripristino. Il tempo medio di ripristino risponde alla domanda quanto tempo ci impiegano le nostre procedure, sistemi e tutto quello che abbiamo in piedi a ripristinare il servizio quando il sistema va giù. Quindi diciamo che abbiamo un problema in produzione. Si è schiantato tutto, il servizio non è più disponibile, gli utenti non riescono più ad utilizzarlo. Le componenti del mean time to restore sono intanto quanto ci mettiamo ad accorgersene, in quanto ce ne accorgiamo. Questa è sicuramente una componente. E infine l'altra componente dell'mttr è quanto ci mettiamo a correggere. Quindi una volta che ce ne siamo accorti e abbiamo identificato il problema, quanto ci mettiamo effettivamente a far ritornare la situazione come prima. E questo è il mean time to restore, che dimostra, è una delle pratiche dove il mean time to restore è veramente basso, dimostra una qualità o una maturità del team molto alta, con delle procedure ben mature e collaudate nel tempo, che dimostrano che il team è in grado di capire rapidamente quando qualcosa non va e intervenire rapidamente. Per oggi con le metriche DevOps ci fermiamo qui. Grazie per essere stato con me fino adesso e se vuoi saperne di più scuola.michaelferracin.it ci sono anche dei mini corsi gratuiti su Azure DevOps. Ciao!